buongiorno buongiorno per tutto il giorno se anche il nuvolo noi portiamo la luce grazie a voi ciao ragazze come state noi stiamo benissimo grazie come vi avevo già detto la fiera è andata alla grande vi ringrazio a tutte voi ho avuto tante visite non siamo riusciti a fare qualche foto perché la gente purtroppo veniva tutta assieme raggruppata eravamo andati un po in palla comunque non importa importante che siamo qua di nuovo allora chi siamo noi lo scampolo di antonioli sotto impressione c'è il numero di questo punto vendita che quello di este provincia di padova l'altro è rovigo in viale porta abige allora il camera mi sta facendo visualizzare l'ambiente nel negozio noi siamo partiti diversi anni fa che non mi ricordo quanti anni 40 anni ecco 42 42 anni siamo partiti con i tessuti poi cosa è successo qualche anno fa abbiamo inserito anche l'abbigliamento perché quando io venivo in negozio mi diceva ma che bello ma che bello il tuo outfit ma che bello allora cosa abbiamo fatto per contentare tutti perché chi non è capace di cucinare per chi vuole cose veloci anche perché non tutto si può confezionare però si può fare di tutto abbiamo inserito l'abbigliamento che ci sta dando tante soddisfazioni però ricordatevi che noi i tessuti non li moleremo mai ci siamo aggrappati con i denti del tessuto il camera avevate dubbi che non ci fosse avete sentito allora ragazze sigla ho le scappe del sneaker non riesco a girare bene ascolta mi ho fatto una battuta ieri sera che ho detto vieni qua vieni qua che ho detto ma vediamo se il camera c'è o non c'è diciamo così ieri sera sono andata al cinema a vedere Bob Marley ho ancora gli occhi rossi ecco perché ha pianto no 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 sono guardando sono guardando sono guardando ok allora ragazzi avete sentito il camera bello pimpante lui si è ripreso alla grande il titolare un po' meno Francesco un po' meno mio cognato non l'ho ancora visto non so com'è ridotto e io sto facendo di tutto per non farmi per non farmi sentire la stanchezza perché anche sono stati quattro giorni di forse però con tanta soddisfazione perché come ogni tanta cosa tante come tutte le cose quando dai tanto dai l'anima poi hai i risultati ok ragazzi allora oggi cosa facciamo una novità oggi ho qualcosina che ho ritrovato che forse l'avete anche già visto qualche puntata fa e oggi diciamo tutti i prezzi così velocizziamo perché la scorsa settimana la scorsa settimana martedì ho avuto tante richieste tante telefonate e tutti mi chiedevano i prezzi poi ok mi va bene spedisci e siamo andati un po' anche noi come ho detto prima in palla perché quando siete tante per fortuna cosa succede? vogliamo rispondere a tutte e bisogna andare visualizzare i messaggi e invece oggi da oggi vi dirò da oggi oggi vi dirò i prezzi così a chi interessa il campo velocemente salterà qualcosa ma voi chiamateci anche perché non riusciamo a fare tutto se anche mettiamo tanta volontà anche perché in quante centinaia di persone siamo qua dentro tantissime tantissime tre però facciamo per mille facciamo mille duemila tremila minimo allora iniziamo con questo bel capospalla questo montoncino che si può portare giustamente ancora secondo me per ancora un paio di mesi perché lui è un montoncino non è molto lungo perciò è abbastanza confortevole ha le mani che ci è stato perciò su questi giorni che c'è stata la pioggia va da dio va bellissimo e ha il corpo tutto bello caldo in montoncino tipo teddy è stupendo questo è stato scontato costava 120 è stato scontato 80 euro è bellissimo è un grigio è un grigio un po' della ve come effetto è stupendo è una taglia 42 44 io lo sto mettendo con il mio outfit che sta divinamente però ha le maniche nere perciò si può abbinare con il nero con il marrone con il blu con quello che vogliamo poi due bei vestiti per chi ama i vestiti vanno tantissimo questi vestiti effetto animalier sono dei vestiti in retina questi non hanno stagione perché avevo altre fantasie le ho vedute d'inverno mettono sotto una magliettina in caldo cotone questo è tutto foderato facciamo uno alla volta è tutto foderato perciò non crea problemi non è trasparente ha questa fantasia animalier adesso leviamo il giacchino che così ci muoviamo meglio ha questa fantasia puoi far vedere il tessuto camera invece inquadrare me che sono uno spettacolo no oggi è tutta una sorpresa vedete eccolo qua questo è un vestito un vestito stupendo molto lungo anche per le più alte in retina tutto foderato ha questa fantasia animalier ha questa bella tigre dietro in terra e davanti c'è la più piccolina ha le tasche laterali i polsini perciò e ha tutta questa fantasia tutta bella sfumata allora questo è stato scontato a 40 euro 40 euro ragazzi veniva 69 40 euro allora 20 e 30 ho fatto in due posti sì scusa perché stiamo facendo il prezzo a una cliente allora 40 euro il vestito invece di 69 e adesso diciamo il prezzo anche di questo questo è un vestito con la cinturina ha la sottovestina sotto così non abbiamo il problema di andare a prendere sottovesti nel negozio di scampoli abbiamo già abbiamo la sua foderina che si può che si può sottoveste che si può anche levare per chi lo vuole portare come camicione con jeans strappatissimo sotto ha questo collo un po' particolare è un po' intrecciato davanti è leggermente accollato con la cinturina in vita maniche e palloncino anche questo qua questo è stato scontato a 30 euro allora ragazze 40 euro questo tutto foderato anche le maniche e 30 euro questo qua mi raccomando ricordatevi i prezzi perché sono prezzi veramente veramente di stra occasione una giacchina gettonatissima questa è una giacchina in tafta è un tessuto molto leggero già guardiamo la primavera estate adesso vi faccio vedere come veste perché c'è anche un altro materiale così se la vedete come viene indossata capite anche dopo voi anche come abbinarla eccola qua questa è una giacchina che si può portare adesso come camicia e poi la troviamo come capospalla per la primavera estate perché è molto leggera e ripeto chi la vuole indossare subito con un outfit nero sotto poi se la ritrova in primavera estate perché è proprio un cappino proprio da portare anche questo qua senza stagione perché l'avevamo anche con il fondo nero e l'hanno portata proprio tutto quest'inverno perché è un tessuto che non ha stagione ecco questa qua è della san san questa veniva 59 40 euro anche questa qua io ho fatto questo outfit con questa maglietta è una magliettina in jersey di cotone e a scatolina c'è anche il suo pantalone adesso ve la faccio vedere io l'ho abbinata così ho messo la giacchina sopra la collana in punto luce e poi ho messo anche il pantalone la magliettina e il pantalone completo 49 euro più 40 89 euro di tutto l'outfit la collana ve la regalo la collana in regalo la stella 89 euro tutto l'outfit questa è una cosa che la portate da adesso perché io sto già vestendo con qualcosa di più leggero perché dopo sopra ci mettiamo il gabà perché c'è umidità però non è più quel freddo invernale poi ripeto quando andiamo dentro negli ambienti abbiamo abbiamo veramente caldo questa è l'altra giacchina che vi dicevo sempre la stessa forma però in tessuto punto milano io l'ho abbinata con una t-shirt un po' corposa una t-shirt che veste fino alla 48 e una t-shirt tutta particolare vedete queste scritte aspetta che qua vedo che c'è ah no sono tutte scritte in rilievo questa è un'azienda francese che ha delle cose meravigliose anche questa la giacchina ve la do 49 39 euro queste ricordatevi che sono cose nuove perché ci sono tuttora nei magazzini perché loro si ripetono l'inverno le fanno in pannetto primavera estate le fanno in punto milano allora 39 euro la giacchina 29 la t-shirt invece di 39 29 la t-shirt e 39 la la giacchina io l'ho abbinata con il pantalone blu questo pantalone particolare che è un pantalone con la finta pattina davanti che veste benissimo magliettina bianca eccola qua e la nostra giacchina blu come voi sapete il blu di primavera è stupendo un outfit allora qua abbiamo detto il pantalone 29 39 la giacchina e 29 la t-shirt fate un po' i conti voi questi sono i prezzi proprio più cari che ho c'è anche il nero sempre in punto milano con la finta pattina queste sono magliettine giacchine capospalla in una scatolina perciò vanno bene un po' a tutti sono fantastiche 39 euro in punto milano stupenda io l'abbinerei con questa magliettina con il frufru questa è una magliettina stupenda anche questa è stata scontata da 39 29 euro 16 euro la colana calamita stupenda io l'ho messa a base tanto per staccare un attimo per farla vedere un'altra magliettina venduta tantissimo anche questa qua anche in cera con questo finto taschino con queste due lunghesse una un po' più corta da una parte un po' più lunga dall'altra con la tasca questa è una tasca vera non è una tasca applicata per finta anche questa è una magliettina in punto milano da 39 29 euro guardate che meraviglia questa è una magliettina che la possiamo mettere soprattutto perché io la metterei anche sopra questo mio outfit perché in nero facciamo tutte queste lunghezze e tutti questi abbassamenti ed è meravigliosa gilet gilet che adesso vanno tantissimo questa mattina una cliente mi ha chiesto che aveva visto il gilet quello di lana che ho presentato martedì ma è già andato via l'ho preso la nostra Anna la trentenne ciao tesoro che è venuta a trovarci è venuta a trovarci in stiera è stata proprio una cosa meravigliosa perché siamo giustiti a vederci personalmente perché di solito ci attiamo e gli spediamo delle cose perché lei si trova bene e si trova bene con i nostri capi questo è un gilet che si abbottona da una parte asimmetrico e si allaccia dall'altra in maniera che quando ce lo avete addosso lui rimane fermo è un gilet in felpina è una felpina leggera perciò la possiamo portare da adesso in poi perché ripeto non c'è quel freddo più invernale perché di solito io dopo Natale dico che ormai l'inverno se n'è andato anche questo gilet è stato scontato da 39 29 euro ragazzi mi raccomando ricordatevi i prezzi perché noi ce ne siamo scritti ma oppure chiamateci gilet questo è un gilet con il collo a cammino che erano arrivate anche le maglie se vi ricordavate bene ci sono anche le maglie con le maniche lunghe però adesso le ho finite ma penso che ritorneranno questo è un gilettone che si porta soprattutto possiamo metterlo sotto la camicia sotto il pantalone a palazzo il pantalone a sigaretta un legis quello che vogliamo e lo portiamo alla grande questo gilet anche questo scontato da 49 39 euro guardate che meraviglia il gilet con la punta in punto Milano questo c'era in versione più leggera che li ha presentati anche mia cognata e io li ho li ho presentati questo è il punto Milano è quello un po' più pesantino da portare benissimo adesso poi le prime magliettine in viscosa i primi maglioncini in viscosa l'ho trovato solo verde mela è a scatolina io ho sottomesso la magliettina in caldo cotone questo si può portare benissimo con tutto con il blu con il nero con il grigio perché il verde mela sta bene con tutto da 39 29 euro e la magliettina in caldo cotone viene 12 euro è una manichina la manica un po' a tre quarti che deve uscire la magliettina sotto poi i nostri cardigan i cardigan fantastici in punto Milano questo è il punto Milano un po' più leggero questi sono da portare proprio da adesso in poi perché io sotto qua ho messo la t-shirt possiamo mettere la t-shirtina ecco questa è la t-shirtina tanto per far vedere il contrasto del colore questa è la t-shirtina bianca con la scritta buon appetit eccolo qua io ho messo il cardigan sotto ci possiamo mettere il nostro pantalone nero e questo cardigan lo portiamo benissimo da adesso tutta s'estate perché in punto Milano ed è in viscosa è ovetto perciò veste tutte mettiamo sotto il nostro bel pantalone nero questo qua da 49 39 euro e la t-shirtina da 19 15 euro stupenda il nostro pantalone con il cavallo sceso il nostro paspastuc questo costa 19 euro è stupendo da 29 ho l'ultimo pezzo di nero dopo quando arriveranno gli altri ritorneranno a 29 stupendo ecco qua l'outfit bellissimo 19 euro il pantalone una gonna una gonna stupenda questa è una gonna in tessuto tecnico è quasi un cotone un po' effetto è un croccante è un cotone con le tasche laterali una gonna sì però è un tessuto fresco perché sono tessuti proprio è un tessuto super morbido è un tessuto morbido è un tessuto proprio per l'estate e sono tessuti un po' croccanti fanno un po' l'effetto proprio safari con le tasche laterali anche questa qua questa costava 39 euro 29 euro e l'ultima è una taglia 44 42 44 perché si può con la collisse stringere un attimo fa l'effetto un po' arricciato poi la stendiamo arriva fino alla 44 una gonna molto molto bella grazie grazie tesoro arrivederci grazie grazie il nostro pantalone con i bottoncioni questo è un pantalone fantastico con tutta la bottonatura laterale è meraviglioso un azzurro polvere questo c'è anche in beige con la sua giacchina abbinata e c'è anche un nero in giro che fossero su un altro manichino io l'ho abbinato con questa t-shirt il nero è sul manichino con il giubbino intrecciato allora il pantalone 39 euro la t-shirtina 29 euro guardate che offrite bellissimo possiamo metterci sopra lo spolverino bianco mi dai lo spolverino bianco per favore che lì no vicino alla ragosta esatto a ragosta ha il colore ha il camera fame allora io lì sono mangiato mezzo chilo di pop corn guardate che meraviglia no ragazzi questa ve la devo raccontare perché l'ho detto prima la doniera lì lì sono mangiato mezzo chilo di pop corn alle 8 dovevo iniziare le prime iniziate alle 8 e 40 ho fatto più di mezz'ora di pubblicità avevo già finito tutti i pop corn ragazzi no a noi che ce ne frega scusa camera veramente lui è andato al cinema e si è mangiato i pop corn eh sì è così erano 3-4 anni che non facevo vedi cosa vuol dire però guarda Federico io sono convinta che ti appaga molto di più avere Bjorn avere William sono due cose impagabili che non hanno valore dai ci sta i sacrifici sono ben fatti per queste cose allora ritorniamo a noi lo spolverino della Wendy Trendy anche questo è nero è bianco scusate c'era anche il nero è stato terminato e lo sto pensando al cinema e questo è stato scontato a 49 euro costava 89 è un tessuto leggermente impermeabilizzato Sabrina per favore vieni qua se stai servendo vieni con un foglio e ti scrivi i prezzi perché dopo vado in palla spolverino bianco 49 euro la t-shirtina abbiamo detto 29 euro e il pantalone 39 guardate ragazze che meraviglia stupendo questo è un offrit proprio da primavera estate lo portate tutta l'estate lo spolverino lo prendete lo impacchettate lo mettete in borsa e dopo ve lo ritroverete una serata di pioggia una serata un po' anche perché la sera finché non viene agosto luglio-agosto la sera secondo me ci vuole qualcosa da coprirci le spalle le nostre t-shirt guardate che meraviglia questa t-shirtina questa costa ve lo dico subito una t-shirt bellissima con questi fiori di rilievo questa costa 19,90 scusate 19,90 io la abbinerei con gonnellina guardate che ha il fiore i gambetti dei fiori che richiamano il pantalone io la abbinerei così con un giubbino un chiodino un giubbino di jeans sopra e siamo vestite alla grande ecco qua la magliettina vesto in 42 44 sono magliettine un po' in figura poi un'altra t-shirtina molto bella anche questa nera con questa cascata di volante molto bella anche questa qua ecco questa qua 15 euro una t-shirtina un po' più semplice un'altra t-shirtina guardate che amore questa t-shirtina anche questa qua è stupenda però non finisce qua guardate che meraviglia mamma mia che bella guardate che meraviglia 19 euro stupenda sono quelle cosine si mettono su siamo fuori a cena ci leviamo la giacca ci giriamo bellissima avete sentito in camera lui si immagina già di vedere una ragazza così poi altre t-shirtine faccio vedere velocemente l'altra t-shirtina con i fiori applicati in organza con i petali stupenda anche questa qua anche questa qua costa 19,90 l'altra con il fondo bianco come quella nera sempre con i petali 19,90 stupenda guardate che meraviglia allora io ero in fiera mi ricordo questa cosa lui si ricorda del cinema ieri io mi ricordo allora una ragazza The Stender che stava vedendo le cose che io stavo vendendo a un certo punto si è avvicinata ha detto ma tu sei il pazzo a vendere queste cose questi prezzi quella maglietta lì a 19,90 io l'avrei venduta a 39 euro ho detto ma perché io sono io sono fatta così a me i clienti quando prendono le cose anche perché dopo mi ringraziano volevo dire quando arrivano le cose vedono che poi gli altri magari li vendono un po' meno cosa ti dicono comunque mi ha fatto questa confidenza ed è anche il motivo per cui nelle altre dirette che avete visto non abbiamo magari dei più prezzi questa una volta un po' è un po' particolare perché voglio attirare la vostra attenzione per farvi capire i prezzi delle nostre cosine e poi spediamo a partire dai 6,50 euro esatto e adesso che le cose sono anche più leggere riusciamo a spedire con i pacchi perché c'è con il sacchettino il sacchettino 6,50 la scatola 10 euro portate pazienza però certi capi che noi vogliamo che vi arrivano perfetti perché mi ricordo una cliente che ci aveva chiamato un giorno che ci ha anche fatto notare una cosa ma signora lei quando spedisce come mi spedisce le cose perché se mi è arrivata una giacca con le spalline tutta piegata l'ho dovuta buttare perché era irrecuperabile non si riusciva neanche più a stirarla perché poi voi sapete i corrieri come fanno quando caricano poverini anche loro buttano buttano non hanno riguardo sono uomini in tutto sommato e poi devono fare come no tu sei un uomo hanno tanto lavoro da fare li dipendo perciò buttano i pacchi là così e giustamente se non ci scrive sopra è super fragile le cose poi arrivano un po' tutte rovinate a me dispiace molto insomma perché le cose devono arrivare come noi le presentiamo anzi meglio perché io le cose se non sono mie le tratto meglio delle cose mie personali un'altra ticertina stupenda questa tutto macramelle diamo queste che così non facciamo confusione questa ha tutto un macrame nella spalla questa veste un po' di più le altre arrivano 42-44 questa veste un po' di più ha tutto questo macrame guardate che meraviglia tutto applicato non è una stampa sulla spalla la spalla un po' più giù che va giù a carè e poi ce l'ha anche che riprende dietro raffinatissima guardate questa ticertina e questa anche questa 19,90 questa è una sciocchetta scusami dico un'altra cosa per voi siccome puro cotone siccome una cliente c'ha scritto che ha detto io la ringrazio tantissimo per il commento però c'è scritto che ha difficoltà a vedere i cape perché abbiamo una scritta qui abbiamo l'utilizzo qua sopra allora noi vi invitiamo a scriverci per Whatsapp voi ci scrivete ve li facciamo vedere meglio senza scritte senza camera che parla esatto anzi vi ho detto che prendo il camera lo deprino tutto e gli faccio provare le cose guardate che meraviglia anche queste con la cocarda bianca su bianca l'altra era nero su nero questa è bianca su bianca e anche questa bianca con i fiori in rilievo guardate che meraviglia guardate il pistillino dentro pistilli tutto pieno di strass guardate che meraviglia sono delle cosine meravigliose abbiamo ancora una camicia una qua e una qua con l'applicazione tutta traforata queste sono camicie che si portano da adesso tutta l'estate perché sono in battista di cotone 39 euro ragazze guardate che meraviglia sono tutte traforate sono stupende bellissime meravigliose il mio pantalone preferito questo in grigio l'avevamo anche in nero sono stati terminati questo lo volevo indossare stamattina ma poi ho detto Massiva lo indosserò la prossima settimana io di questi ne ho due paia perché sono talmente confortevoli le ragazze che venivano in fiera si riprovavano anche perché non credevano di starci dentro perché giustamente questo è un elasticizzato molto confortevole anche perché se voi notate i jeans di solito hanno il cinturone fermo allora lì purtroppo è il punto ti fanno soffrire perché oltre devi prendere l'arigliare poi si è obbligata a mettere la cintura questo qua no invece perché questo è elasticizzato anche nel cinturone perciò si adegua il corpo questo vanno a taglia adesso mi è rimasto una M una M veste un 44 abbondante ragazze perché è molto molto elasticizzato io li porto molto morbidi perciò vestono vestono abbastanza delle magliettine in viscosa questi sono dei maglioncini prima delle cose proprio estive questi vengono 15 euro c'è in grigio e uno in beige se dopo ve lo trovo ve lo faccio vedere un burro hanno il collettino a cammino questo è un grigio perla questo ci sta benissimo con il nostro pantalone io avevo fatto questo outfit il pantalone viene 39 scusate non ho detto il prezzo io ho fatto questo outfit ho messo la collana rosa per staccare il fullarino rosa col po' al grigio 15 euro 39 euro guardate che outfit è bellissimo 5 euro il fullar di sette viscosa sono i fullarini strozza a collo ma fibra sintetica all'interno? no ho detto setta e viscosa noi non abbiamo infatti delle clienti in fiera ci parlavano no impossibile quei soldi infatti noi li vendavano 5 euro 10 euro quelli grandi gli altri li vendevano 29 ma impossibile che siano belli e buoni ma noi facciamo i miracoli noi facciamo i miracoli guardate che meraviglia questo è un pantalone in pura viscosa allora il pantalone è già una versione estiva questo qua da portare dopo Pasqua secondo me che le giornate diventeranno più tiepide allora se riuscite a portare qualche capo più leggero se state in Sicilia lo mettete domani esatto se state in Sicilia lo mettete dopo quando vi è arrivato lo mettete subito guardate che meraviglia questi fiori con queste farfalle questo veste questo veste fino alla 48 perché ha l'elastico che si allarga hanno fatto la camicina con la stessa fantasia che è un off-fit in battista di cotone in battista questo veste questo veste fino a una 46 abbondante perché è bello ampio le maniche guardate la particolarità delle maniche ha questa piega e poi ha la manica ripresa a palloncino perciò voi la potete anche arricciare quando ce l'avete addosso e questo è proprio un capo che lo portate tutta l'estate stupendo questo completo è bellissimo stilista eh sì è una fantasia molto molto famosa di uno stilista come ricordava sì no non ripeto allora il pantalone perché se ci è arrivato Federico che è un uomo questo stilista ci arriverete anche voi allora questo gilet sono i gilet più venduti perché vestono tutte sono gilet a ovetto guardate che meraviglia tutto abbottonato leggermente più corto davanti e un po' più lungo dietro tipo coda stupendo sempre in punto Milano è un punto Milano questo è meraviglioso adesso ragazze ve lo indosso così vi faccio vedere perché ce l'ho anch'io ed è stupendo questo c'è in nero in beige e non hanno fatto il grigio mi dispiace che non hanno fatto il grigio perché il grigio quest'anno va molto non ho capito perché non hanno fatto il grigio eccolo qua questo è un gilet che sta bene a tutte vedete la particolarità degli spacchetti laterali è meraviglioso questo gilet stupendo una felpina magliettina perché ha il peso di più di una maglietta ma è più leggera di una felpa quelle felpe leggere fai vedere camera proprio il materiale sono quelle felpine che vanno tantissimo con questa particolarità di questa segnerina laterale che gli facciamo effetto spacco invece da questa parte dietro il suo quadrato davanti è rotondata questa veste fino al 52 questa è una maglietta da portare un povero con pantalone a palazzo o con pantalone bianco questa è meravigliosa la scritta significa alza il volume la scritta significa alza il volume gliela voglio regalare a William a mio nipote a mio nipotino gliela voglio proprio regalare vedere poi ieri sera ha detto la Claudia e la Jane che hanno tenuto i bimbi 19 euro la magliettina scusate invece di 29 ecco il concerto il concerto delle voci bianche cari allora vestito per chi ama i vestiti però non gli piacciono corti vogliono dei vestitoni questo è un vestito di felpa molto molto bello da portare anche adesso io sotto metterei una magliettina in caldo cotone perché ancora è presto di mettere solo il vestito che esca proprio dalle maniche in contrasto la metterei anche in bianco e portata benissimo con la sneaker la particolarità più lungo dietro più corto davanti stupendo questo vestito questo è un vestito di questa azienda 39 euro e 90 stupendo è proprio è una felpina la famosa felpina questo lo portate anche d'inverno con una sneaker con un pantalone anche un legis che esce sotto potete portare con una cintura in vita oppure l'ho lasciato morbido così ha le tasche che è molto importante ed è un capo che secondo me lo portate all'infinito anche d'estate perché è puro cotone perciò non il 15 agosto sicuramente vediamo se riusciamo non sai che ti dirò che quando ci siamo sposati alla Claudia siamo andati a Parigi ad agosto ma a Parigi è sempre freddo siamo scesi dall'aereo non avevo mai pensato 14 gradi il 12 agosto ma a Parigi è sempre freddo ma voi eravate innamorati ma voi eravate innamorati non avevate freddo dormivamo con le finestre aperte le nostre giacchine queste sono delle giacchine in felfa gettonatissime l'anno scorso ne abbiamo vendute tantissimo adesso ve le faccio anche vedere indossate ho il maglione che mi si è sono giacchine che la mia amica Simonetta le sta portando alla grande adesso il maglione che si ho due spalle che sembrano perché mi si è arrotolato il maglione la mamma di un regbista la mamma di un regbista si ti ricordi quando hai fatto rugby mamma mia allora perché il maglione che va su e si arrotola queste sono delle felpine portatissime delle giacchine di felpa portabilissime su questi giorni perché ripeto anche queste qua non hanno stagione io le porto anche d'estate di sera sotto metto una t-shirtina si è agganciata bellissima abbiamo già le clienti che ci mandano i messaggi ecco qua guardate che meraviglia con una t-shirtina sotto e la possiamo portare tutta l'estate questi cartellini che sono hanno la lista a taglio vivo le taschine sono vere cucite ma a taglio vivo a taglio vivo guardate che meraviglia ha le tappe nelle maniche stupenda questa è una taglia 42-44 e questa vi dico cosa ve la posso dare invece di 32 euro vi faccio 29 una giacchina stupenda in cotone un'altra t-shirt come quella bianca ma in nero queste sono le t-shirt che vestono con questa scritta tutti i rilievo bellissima particolarissima guardate che meraviglia sempre questa azienda francese che ha queste cosine che sono meravigliose una gonna una gonna color safari è una gonna che qua lo spacco lo facciamo come vogliamo noi o sopra il ginocchio oppure appena appena sotto è una gonna che veste fino alla 48 è bella morbida ha la tasca dietro la pattina ed è un cotone un bel cotone una gabardina di cotone elasticizzata questa veste per le amanti delle donne la possiamo mettere benissimo con la nostra di certina che ho appena fatto vedere perché sono nero e beige ed è meraviglioso guardate che meraviglia guardate che bello beige beige e nero raffinatissimo ragazze raffinatissimo in puro cotone cosa mi ricorda il nero e beige i giornalisti ricordi quando avevano quei bei trench una volta eh sì il famoso trench la nostra t-shirtina la nostra t-shirtina con scritto baby davanti con il girasole tutto ricamato lo possiamo sempre mettere su questa gonna abbiamo un outfit un po' più normale molto sofisticato e questo è un outfit che veste fino alla 48 bellissimo guardate il fiore tutto ricamato e il fiore ricamato questo è una t-shirtina sempre da 19,90 costa pochissimo e la gonna viene 29 euro vi sto facendo un regalo la nostra gonna in raso queste sono conne lunghette sono delle conne stupende questa c'è così e anche nera 29 euro nera sul manichino in raso oppure c'è anche quella lunga lunga c'è quella lunga lunga volevo far vedere la gonna cosa costava 49 ho detto io 29 della sansan mamma mia ragazzi chi prima arriva meglio alloggia oggi presti pazzi sapete che se ci iscrivete in un'area di chiusura non rispondiamo subito noi rispondiamo alle 3 e mezza ok però chi prima arriva meglio alloggia perché i messaggi di whatsapp non scappano ma voi provate lo stesso a chiamarci ragazze perché io sono qua anche prima oggi guardate questa gonna plissè queste sono le nostre gonne gettonatissime costano una sciocchezza perché costano 19 euro e 90 c'è così e anche in grigio camera è lì in grigio dove c'è la gonna maculata avanti avanti non troppo verso di me verso di me avanti avanti eccola lì eccola lì verde smeraldo e grigio quanto ho detto ragazze quanto ho detto wow bellissimo quello che ho detto perché non me lo ricordo più 1200 aspetta che sto girando ecco qua comunque costano 19,90 19,90 19 euro e 90 scusa la cintura la cintura e il regalo la cintura e il regalo grigio e verde bellissime ho trovato altri due di questi giubini ve li ricordavate ragazze meravigliosi i nostri giubetti in 3D guardate che meraviglia vedete che è una organza scampata ecco qua i nostri outfit guardate ragazze ditemi sono meravigliosi allora il giubino da 59 è stato messo a 30 euro 30 euro giubino qua con 50 euro avete l'outfit con 49 euro perché 19 più 30 49 49 euro ragazze immaginate 6 euro e 50 di scedizione massimo 10 euro guardate che meraviglia questo abbinato così e questo abbinato così guardate ditemi qua se non sta uscendo il sole esce il sole se anche non c'è meraviglioso la nostra giacca questa è rimasta l'ultima con i fumetti è una giacca bellissima che viene portata in qualsiasi occasione anche d'estate con una t-shirt io la porto così eccola qua adesso il maglione che tira giustamente non è da portare con il maglione pesante come il mio questo è da portare proprio in figura con i pantaloni eccola qua 39 euro grazie scusami la rimetto stavo talmente bene che non vuole più rivedermi scherzo 39 euro ragazze è l'ultima bellissima una gonna super super strong guardate che meraviglia è una gonna con tutti questi pezzettini di questa famosa azienda nuova bellissima questa in cotone questa è già la versione estiva è una gonna in puro cotone con tutti questi vola in crepe molto particolare una tutta meravigliosa una salopette stupenda questa è una salopette è rimasta l'ultima è molto particolare perché se voi volete vedere questa ha un pannello sopra e il pantalone sotto è difficile da vedere ma sono sicura che per un portato lo diciamo guardate ha il pantalone sotto e sopra c'è questo pannello che la rende un po' particolare perciò voi quando camminerete ve la vedrete tutto svolassare perché è molto molto particolare si può stringere qua sopra per le più magre perché ha questo con i doppi bottoni e anche qua ha il bottone che si può alzare se una non è altissima se la può regolare la lunghezza come vuole come vuole mi dai che c'è una magliettina bianca a costine per favore per favore dove c'è la gonna maculata lì c'è una magliettina bianca eccola lì grazie è arrivato il titolare ragazzi guardate che meraviglia io la metterei sotto tanto per farvi vedere il contrasto sei pronto per la diretta di sabato Francesco grande grande scalpita scalpita come un puledro sta scalpitando come un puledro per la diretta di sabato guardate che meraviglia beh gli asini non scalpitano scalciano guardate che meraviglia dopo voi ve la potete come ho detto tirare su perché io l'ho messa al massimo vedete anche per farvi capire come vengono portate oppure con una camicia molto larga sopra potete portare con una camicia sembra un vestito ma invece una tuta anche con una t-shirt molto larga sotto allora le magliettine le magliettine perché adesso ripeto non c'è ancora caldo però non è più freddo io le porto alla grande queste magliettine in cotone della San San sono bellissime con a scatolina si mettono soprattutto questo color vino che è meraviglioso il color olio e il marrone cacao cioccolato queste invece sono fatte un po' diverse il verde gucci questa ha due punte laterali quelle sono a scatolina e queste ha due punte laterali tutte a 29 euro con questa cucitura dietro queste sono bellissime perché sono molto molto particolari questa c'è così vedete com'è fatta dalle parti che va giù molto particolare e in verde militare 29 euro 29,90 29 un sannellino un sannellino semplicissimo questo lo possiamo mettere con la nostra gonna plissé una camicina tinta burro sotto una magliettina e abbiamo un outfit bellissimo il sannellino che è questo della San San costa una sciocchezza ragazze 49,39 euro stupendo sannellino 39 euro Sabrina l'ha iscritto uno sannell lungo a spolverino guardate che meraviglia anche questo questo non ha i bottoni ho messo lo spillo per farvi vedere sempre sempre della San San 49 euro è da portare aperto proprio come trench e come spolverino questo è molto molto particolare proprio Chanel della San San 49 euro invece di 69 stupendo tanto per farvi capire una camicia multivolant verde militare bellissima questa è una camicia in pura viscosa stupenda questa costava 59 euro 39,90 in pura viscosa questa la vedrei con pantalone cargo con pantalone a palasso un jeans quello che volete scusatemi in pura viscosa il nostro vestito tipo scuola vestito scolare è un vestito tipo giapponese più che scuola perché il tessuto è un cotone croccante come i grembioli però il modello è un modello giapponese guardate che meraviglia ha tutta una parte laterale intrecciata stupendo questo vestito costava 89 euro 59 euro 59 euro è regalato ragazzi è rimasto l'ultimo tutto pieno di volant sopra si adegua il corpo normalmente questo vestito è fino a un 46 chi lo vuole portare un po' morbido 46 stupendo i nostri manichini siamo ritornati i nostri manichini allora la nostra camicia con le punte laterali in bastoncino bianca con la righina azzur e la righina blu 19 euro la nostra camicia il nostro gaban in jeans 39 euro questo c'è anche un altro modello che ve lo cercherò che questo è con una bottonatura laterale sopra poi si apre invece l'altro ha la bottonatura fino a sotto che poi ve lo farò vedere il nostro gaban impermeabile la camicia con snupi bianca pantalone Luisa se ti sei decisa dal colore chiamaci perché ho paura che dopo rimani senza mi dispiacerebbe che te l'ho promesso nostro gaban con questa firma è nottissima che è stato gettonatissimo è rimasto in verde salvia e in cammello ci doveva essere in cammello in giro con le nostre gonne lunghette queste sono più lunghe sono belle e lunghe invece quelle che vi ho fatto vedere prima erano sotto al ginocchio le nostre magliettine in caldo cotone da 12 euro che costano pochissimo il nostro giacchino stupendo anche questo che è rimasto l'ultimo in puro cotone con questo taglio particolare con queste cuciture con il nostro vestito in rettina anche questo foderato è stupendo guardate che meraviglia vedete che è tutto foderato io l'ho strizzato in vita con la cintura in pelle la collana in caociu e questo tessuto è un tessuto rettina è molto elasticizzato ha la manica sfoderata il corpo è tutto foderato io ho fatto questo optlite che secondo me è molto bello per la primavera ed è un capo che si porta tutta l'estate i nostri completi gettonatissimi in fiera con la nostra giacca trapezio che si chiude un po' lateralmente più lunga da una parte più corta dall'altra con sempre il nostro pantalone bottoncioni il nostro gaban impermeabile è a scattolina ricordatevi che qua sembra corto perché il manichino a me piacciono alzalli molto che sembrano proprio secondo me più impotenti più belli con la nostra manica regla questo veste un 46 abbondante con la nostra camicia più lunga dietro io ho abbinato la gonna il raso il rasone che è bellissima la gonna lunghette ha fatto un outfit potete andare neanche un matrimonio vestite così il nostro gaban gettonatissimo questa ragazza è proprio l'ultimo non ne avevo prese tanti però ho visto che sono andati via benissimo con questa bottonatura nascosta è molto molto bello e molto particolare a ovetto adesso te lo faccio vedere ha questo taglio un po' ovetto che è molto molto bello e molto particolare perché veste tutto questo effetto un po' over però si vede che è raffinato la bottonatura è all'interno perciò non si vede quando lo abbottonate l'abbottonatura va scomparsa la manica larga con la mostrina nella manica e la mostrina nelle spalle è un beige un sabbia stupendo io l'ho sdramatizzato con la nostra gonna di felpa che è molto molto bello ho messo la borsettina in pura pelle la borsettina 29 euro in pura pelle ragazze in pura pelle vedete che c'è scritto vera pelle 29 euro una borsettina che si può mettere su tutto le nostre giacche con le tigri anche questa è una giacca stupenda è una giacca che è stata molto molto gestonata è rimasta l'ultima ecco qua ragazze io credo di avervi fatto vedere tutto spero di non avervi annoiato con questa novità vi è piaciuta dateci un voto mettete un buon pollicione mi raccomando ragazze chiamateci a presto perché non ho più fiato vi voglio bene ciao a presto grazie 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 grazie